musica a Kenaton sono due Jean Torre Grossa e Philippe Castellin il suo lavoro si ria la soggio dell'artiplastico e della poesia spitta, non è già qui dai figlia che ci fanno? hanno una performance ah come le sportive se depassano on può fare una belle prestazione senza fare di performance non 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 ci si manca pena qui s'agisce di una azione fatta in un luogo e in un tempo preciso un tempo preciso c'è un principio e una fine come tutte le azioni? ah non manca pena cert'azione per un principio a oggi è finito un mone o ma più ah sì, c'è più près della pièce di teatro uniti di tempo, di lievi e di action se tu vuoi ma un nemico di teatro perché non c'è un nemico di teatro e non c'è un nemico di teatro non ci può essere la storia ma la storia corrente è quella che non c'è che ci fanno in un mondo le referenze fatte alla storia del ventesimo secolo politica, sociale ma la storia è un nemico di teatro non c'è un nemico di teatro ma se ti vuoi inventare un mondo ti vuoi un mondo una compia è finito è finito è finito l'execuzione existe in tutti gli arti di sicuro e come per la musica una compia poi si ribellata in un altro robot e per due altri artisti e allora se tu vuoi non come due attori o esegudori ma più come creadori in un senso di mettere in scena per la prima volta per un attore on dì creare un role ma tu mi dì che ce ne sono pas dei attori ce sono dei artisti che essai di non essere dei attori ti vuoi così l'artista s'efface e c'è son oeuvre che conta e se tu vuoi una compia un spettatore può rire domandarsi capire altrimenti che cosa vicino può avere l'impressione di io a qualcosa soprattutto si on lui mette un magnétophone dans le man tutto è fatto per inturbire il tempo un ritratto piato nel tempo di eseguzione può avere un senso ma ne può avere in un altro il senso entra cia i vasi il cerchio il cerchio è sempre non? la figura più perfetta simbolo di mondo di universo e il è tale del rio del sable e del liquido e beh senza un riso gusti non si sarebbe vista a vedere della criatura che non ha bisogno e là è sicuro c'è un gioco si può dire quagheria anche una eustra al nostro arte guerriero e il rimballe tutto come sa e compie compie hai già a berella Grazie a tutti.